Ciao a tutti, allora innanzitutto vorrei scusarmi per questa faccia qua ma non estendo a molto che mi sono svegliato ho questa faccia, questa voce un po' rauca Allora, innanzitutto vabbè voglio un po' dirvi un po' di cose, innanzitutto la serie non è assolutamente finita nonostante i caricamenti di video diciamo da un po' che non ci sono con fronte a me standard che di solito le caricavo almeno una volta a settimana ma appunto la serie va avanti infatti questa è diciamo una nuova di, cioè può essere tra virgolette un episodio Poi vi spiegherò perché tra virgolette Il perché, il perché del non caricamento, cioè perché ho smesso di caricare i video Allora innanzitutto specifico che per quanto mi riguarda le possibilità di giocare a FIFA ma alla Playstation se per sé sono un po' calati diciamo Diciamo che ho dei nuovi tra virgolette impegni e quindi appena, cioè diciamo che ci posso giocare di meno però appena posso gioco Poi il perché di questo nuovo episodio, cioè il perché tra virgolette la parola episodio Allora questo che vedrete non è un vero episodio, è 200 volte che lo dico vabbè Non è un nuovo episodio dove appunto di solito come faccio sempre mentre gioco, commento, insomma faccio una sorta di telecronica in diretta No, no, no perché ci sono stati dei problemi Problemi che fra l'altro anche questi problemi qua che vi stanno per dire e vedrete Credo che siano oltre al fatto della meno possibilità di giocare a FIFA Credo che siano anche molto importanti al fatto del non caricamento del video una volta a settimana E insomma è praticamente cosa mi è successo Mi è successo questo E quindi cosa c'è di nuovo? Niente, perché mi sono salvato nel senso E quindi per chi si fosse perso, per chi non mi segue, non segue la serie Praticamente io ho, mi ero tra virgolette promesso a me stesso di caricare un nuovo video Appena magari ero lì o riuscivo a vincere la divisione 1 Così non è stato E già il fatto di essere rimasto lì senza vincerla Mi ha un po' fregato Perché comunque non è che ci vuole tantissimo Allo stesso tempo non è che ci vuole pochissimo Cioè le partite durano circa 15 minuti più o meno Quindi un tot di partite Cioè mi aveva già meno tempo a livello che avevo E già qui mi hanno messo un po' di fiorità Perché ho dovuto ripetere tutto Cioè ho dovuto risciocarci Ma cosa è successo? Cioè ho caricato solamente due, no? Dei finali, ovvero dalla prima adulta partita E sono nel processo Quindi ancora peggio Cioè quindi sono tornato in D2 Però io non ve lo volevo far vedere Perché? Perché non è che è imbarazzante Però Detto di cazzo Sono stato retrocesso E ora mi è toccato a Nasu E questo si è ancora Influito ancora nell'altro Sul rimandare l'uscita del video Perché come vi ho detto prima Il mio obiettivo era quello di far vedere Che io sono da fin di uno E che la sto per vincere E perlomeno l'ho già vinta Diciamo Ok Sono in D2 Quello che sarebbe successo in D2 Credetemi Mi sono salvato così Perché ho salvato l'ultima partita Ho rischiato anche di retrocedere in D3 Però Cosa ho fatto? Per evitare di Farvi Tra virgolette Per quelli che Mi seguono Quei pochi che mi seguono Per farvi Per non farvi perdere La speranza Nel nuovo video Ho detto Io lo carico Vi faccio vedere cosa mi è successo Mi tengo un po' aggiornati E quindi diciamo Come ho detto ora Questa è una sorta di episodio Ma non è un vero episodio Perché appunto Le partite vere e proprie Non se ne vedono Però diciamo È una sorta di Delucidazione Su quello che mi sta succedendo a FIFA È un periodaccio anche nel FIFA Perché non mi riesce di non vincere Non mi riesce di giocare E nient'altro Inoltre però Come tra virgolette No regalo Cioè Vado a farmi un altro regalo Perché comunque Queste partite qua Il fatto anche di essere retrocesso Di essere Di essere Biservato E bla 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 Mi hanno permesso di fare un tot di crediti Che ho deciso di sprecare Capirete perché L'ho sprecato Avendo il pacchetto Da 35.000 E eccolo qua Quello che ho trovato Davvero una bella merda Cioè In realtà Ho anche aperto un altro Classico da 7500 Che serve con l'Oreo Insomma Quello che trovi Tutoria più rari Rispetto a Con la 5.000 euro Non l'ho caricato Perché Se questo qui È stato scandaloso Quello credo Che sia stato veramente Disastroso È una cosa Improponibile Quello che ho trovato dentro E che ho detto Non lo carico Guarda Veramente imbarazzante Cioè È roba che Non lo so Boh Cioè Ho trovato Se non ho sbaglio Solo i contratti Oreo Niente di che E quindi ho detto No Guarda Non lo carico E niente Comunque Il video termina qua Io Tengo a precisare Che Al 99,9% Il prossimo video Anche a costo di farlo uscire Fra un mese Per farvi capire Lo vorrei fare Quando sono tornato Sperando di tornarci In D1 E di lottare Per vincerla Se è così Dopo Appunto Mi do Mi do Tempo massimo Due settimane Me lo do da solo Se tempo due settimane Questo non dovesse succedere Ehm Beh anche Mi vedi Di riserro aggiornati Quindi Innanzitutto Mi dispiace Se magari qualcuno Non lo so Si Non si deve Per avere una piacere A vedere Il classico video Del gioco Con il mio commento Durante la partita Mi dispiace E' andata così E E niente E No che mi dispiace Che la serie Comunque non si è finita Anzi Forse Forse Non meglio Ma cioè Bene E E Niente Quindi Spero di Avervi un po' chiarito La situazione Spero che abbiate capito Se ci interessi Qualche domanda Fatemelo sapere E Niente Ci vediamo Nell'altro prossimo video Ricordatevi comunque Se volete Abbiare Mi mettetevi un piaccio A condividere il video Iscrivetevi al canale Però Ricordatevi comunque Che la serie Non è finita Va bene Ciao a tutti Alla prossima Ciao 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 Grazie a tutti.